Nuove rivelazioni che riguardano la scomparsa di Denise Pipitone. Questa mattina, 14 giugno, è stata proprio la PM Angioni a rivelare uno scoop nel programma di Eleonora Daniele, storie italiane. La PM Angioni dice così, Denise è viva e ha anche una figlia, ma vediamo nei dettagli che cosa ha detto e che cosa ha scoperto, perché comunque la sua rivelazione è stata veramente shock. L'ex PM Maria Angioni, il magistrato che a quei tempi, ben 17 anni fa, fu uno dei primi ad occuparsi della sparizione di Denise, oggi davanti alle telecamere ha detto Ho la certezza che Denise Pipitone sia viva e l'ho anche individuata. Questa persona è ormai una donna e ha anche una figlia. Ma poi va ancora nel dettaglio e dice, non è detto che Denise Pipitone sia in una famiglia rom, va cercata in ambienti cosiddetti non ispezionabili. Non sappiamo se la signora del video di Milano sia una rom, io sono sicura che sia viva. Nei giorni scorsi, infatti, ho anche mandato delle segnalazioni, documenti e foto, trasmesse alla Procura della Repubblica, Circa una ragazza che secondo me potrebbe essere Denise, è viva e ha anche una figlia. Io ho la certezza personale che sia viva. La PM Angioni ha sempre avuto questa certezza che Denise poteva essere viva e secondo lei, infatti sempre nella trasmissione di Eleonora Daniele, tempo fa ha detto che secondo lei c'è stato un accordo. Denise è viva e sta da qualche parte. L'ha salvata qualcuno che le voleva bene, dice l'Angioni. È una mia ipotesi criminologica da tutto quello che è emerso. Io spero nel ritorno della bambina i rapitori la potrebbero lasciare da qualche parte e chiamare. Voi che cosa ne pensate? Che cosa pensate di questa rivelazione shock della PM Angioni a storie italiane? scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi questo ma nessun altro prossimo video.